Ben trovati alla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignoni in vostra compagnia. In A1, rallentamenti per traffico verso nord, tra Calenzano e il BV A1 variante. Traffico rallentato tra Firenze Scandice e Firenze in Pruneta in direzione Roma per un veicolo fermo o in avaria. In Fipilico è in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Fino al 7 dicembre ancora lavori in via Bolognese a Firenze, tra via del Poggiolino e vicolo di San Marco Vecchio. Restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Domani, evento sportivo a Firenze nel pomeriggio, la zona intorno allo stadio Franchi sarà interessata da divieti e limitazioni della sosta e della circolazione. Per manifestazione nella zona Trabagno a Ripoli e Gaminana, disagia la circolazione nella zona di Firenze Sud. Fino al 16 ottobre è nuovamente possibile accedere alla promozione bonus TPL Firenze per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!